Ciao ragazzi, c'è un'altra cena di classe, siamo qua, tutti andiamo a fare il casino E lei è l'organizzatrice, però aspetta che mostriamo il lato migliore Ciao, Federica Di dove sei? Sant'Orso E che classi siete? 92 Non abbiamo capito il nome Federica, da Sant'Orso, è 92 Fantastico, cosa fai nella vita? Niente Brava, così che si fai, barba la crisi, c'è ancora chi incazzeggia, che fa bene alla salute Basta, finita No, non è finita Quanto parliamo ancora? Hai il moroso? No Brava, trovo un amico? Sì Bravissima, perfetto, è quello che si fa Eccola là Posso Allora, facile facile, se mi indovini, sta parola qua, io ti regalo un free drink, ok? Vedi, questo è un free drink, il nostro free drink originale Come qui Indovinami cos'è una faggeta No, non lo so Cinque Quattro No, farmo Farmo Cosa? Faggeta Non ci hanno mai portato una faggeta Non hai mai fatto l'amore in una faggeta? Eh, non lo so Beh, è un bosco di faggi, era facilissimo Va bene Eh, va bene, dai, ti vogliamo bene Stasera fai casino a muso Ce lo prometti Un saluto anche agli amici, ciao Oh no Oh no Oh no Oh no Grazie per la visione